Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Bene, oggi cambiamo la guarnizione della coppa dell'olio del Ducato Adesso passiamo un pochetto sotto perché c'è un pochetto da fare Allora, io già ho svitato lì la vite Adesso serve una chiave da 20 Prima però dopo la 22 non andava Con la 20 questa qui è andata Oppure c'è l'esagonale sotto Perché nella parte sotto c'è anche Nella parte sotto c'è anche quella esagonale qua sotto Quindi si può levare anche con l'esagonale E poi toccherà togliere tutte queste viti qua Esagonali più piccole Adesso non so quello che vedrete Però diciamo che ci proviamo a vedere un po' Scarichiamo questo olio E vediamo un po' che cosa esce Se ne è pure rimasto di olio E' pure sporco Allora intanto buona notizia Il tappo sta bene e non lascia neanche dei triti metallici Quindi è bello pulito Anche se vabbè l'olio è da fare tagliando Però quello lo facciamo con calma Ma oggi l'importante è cambiare questa guarnizione Della coppa dell'olio Perché fa veramente c'è Scusate Eccola qua Tolto Diciamo ormai il tappo dell'olio Quasi scolato tutto l'olio Iniziamo a togliere queste viti qui Ci servirà un'esagonale piccolina Però vi consiglio una prolunga in questo modo E magari ci mettete anche l'avvitatore Lo fate prima Nella parte dietro sarà un pochetto più complesso Ma con un pochetto di inventiva ce la fate L'importante è levare tutte queste viti Che ci vuole tanta pazienza Quindi direi di iniziare subito Alla fine sono riuscito a schiodarli Scusate se traballa tutto Ma sto soltanto con una mano a lavorare Quindi rimane un po' complesso Ecco questa l'avevo già levato Questo E' un po' duro Annacci Aspettate Eccola Si è schiudata pure questa E pure questa Perché ci avevamo messo il mastice l'altra volta Senza guarnizione E per questo sono rimaste veramente dure Ma vedete che trasuda tutto Quindi tocca mettere per forza la guarnizione Ok tutta questa fila praticamente è andata Ormai Questa manca Ok questa è una pure Levata Abbiamo questa a posto Adesso uso l'altra E vediamo dietro come fare Perché sarà un casino Pena Allaㅎㅎ Molta Parto Hai Siamo Evitaria Vari ...